Grazie alla segnalazione di un cittadino siamo intervenuti nei pressi di Via Veneto dove siamo riusciti a interrompere un'attività di smercio di orologi di poco valore invece spacciati per orologi di grosse marche. Si tratta di un soggetto napoletano che aveva con sé una decina di orologi e cercava di piazzarli anche per l'effettuazione di un pieno direttamente alla macchina. Noi vogliamo veramente ringraziare i cittadini per le puntuali segnalazioni che di volta in volta ci fanno, questo è fondamentale per la nostra attività ed è fondamentale per il nostro lavoro.